che Dio ci aiuti a salvare la sua creazione. Il Papa, Papa Francesco, il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, hanno firmato insieme il messaggio in occasione della giornata di preghiera per la salvaguardia del creato che si celebra appunto oggi, primo settembre. Ricordano che i primi a pagare le devastazioni ambientali sono i popoli più vulnerabili e quelli che vivono in povertà in ogni angolo del mondo. L'appello ai potenti, non ci può essere la soluzione alla crisi ecologica se la risposta non è concertata e collettiva. Il Papa, lo ricordiamo, ha voluto istituire la giornata di preghiera per la cura del creato nel 2015. Frutto dell'enciclica Laudato Sì, questa giornata ha un carattere ecumenico perché appunto nella stessa data viene celebrata anche dalla Chiesa Ortodossa. La terra ci è stata affidata dal creatore come un dono mirabile ma lo scenario decadente che segna la storia del mondo si è manifestato anche nel nostro insaziabile desiderio di manipolare e controllare le risorse limitate del pianeta, cedendo all'ingordigia per i profitti senza limiti promessi dal mercato. Così ci siamo allontanati dal proposito originario della creazione e i primi a fare le spese di questo tradimento del disegno di Dio sono quelli che vivono in povertà in ogni angolo della terra. Non è un semplice manifesto o slogan ma un vero grido di preghiera il messaggio che Papa Francesco e il Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, hanno sottoscritto insieme per chiedere a tutti gli uomini di buona volontà di dedicare tempo a pregare per l'ambiente. Oggi, venerdì 1 settembre, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il Papa e il Patriarca invitano a riconoscere che le vicende del mondo si intrecciano col mistero della creazione e col mistero della natura umana ferita dal peccato originale e nel contempo suggeriscono anche uno sguardo critico originale sul modello di sviluppo trionfante e sulla responsabilità di chi ha il potere. La Sacra Scrittura, sottolineano Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo, rivela che fin dal principio Dio volle che l'umanità cooperasse con la preservazione e la protezione del creato. La terra ci è stata fidata come un dono sublime e una eredità per la quale il genere umano è stato chiamato a condividere. Adesso, proseguono Bartolomeo I e Papa Francesco, non rispettiamo più la natura come un dono condiviso, invece la consideriamo come un possesso privato. Le conseguenze di questo processo di alienazione sono tragiche e durature. L'ambiente umano e l'ambiente naturale si deteriorano insieme e questo deterioramento del pianeta pesa sui popoli più vulnerabili. L'impatto del cambiamento climatico colpisce innanzitutto quelli che vivono in povertà in ogni angolo del globo. Il nostro dovere di usare i beni della terra in modo responsabile, scrivono il Papa e il Patriarca, implica il riconoscimento e rispetto per tutti i popoli e tutte le creature viventi. La chiamata urgente e la sfida per prendersi cura della creazione sono un invito a tutta l'umanità perché operi verso uno sviluppo sostenibile e integrale. E la preghiera rivolta a Dio affinché tocchi i cuori degli uomini è implicitamente connessa all'appello che Papa Francesco e Bartolomeo I nel loro messaggio rivolgono a chi ha il potere. Ci appelliamo con urgenza a coloro che sono in posizione di responsabilità di tipo sociale ed economica o politica e culturale, scrivono i due pastori, affinché ascoltino il grido della terra e siano attenti ai bisogni dei marginalizzati, ma soprattutto rispondono alla supplica di milioni di persone e sostenere in comune l'impegno del mondo per la guarigione della nostra creazione ferita. Siamo convinti, aggiungono, che non ci può essere soluzione sincera e durevole alla sfida della crisi ecologica e al cambiamento climatico se la risposta non è concreta e collettiva, se la responsabilità non è condivisa e affidabile, se non dà priorità alla solidarietà e al servizio.